ecco denzel allora tutto bene alla fine oggi abbiamo scelto murakami per il semplice fatto che sta uscendo da tanto tempo e non viene scelto e un paio di persone volevano ascoltarlo quindi andiamo avanti così leggiamo murakami e il prossimo domani leggiamo gli animali pericolosi visto che hanno domani il vediamo lascio dopo la scelta alla fine di alla fine della diretta metto la storia come oggi visto che ha imparato adesso a cliccare sotto storia o live fantastico ciao stefano rock and roll eccolo qua quindi facciamo dopo buonasera facciamo dopo la la cernita per il racconto di oggi e di domani siete curiosi con murakami o no so che un sacco di persone che magari non hanno mai letto giapponesi nella letteratura magari hanno un po di di pregiudizio sono un po prevenuti come lo ero anch'io oltretutto per la paura che che siano magari scritture troppo diverse dal dai nostri canoni troppo complesse o a volte ma uno io non so qualsiasi pregiudizio sia in realtà ci sono ovviamente come in ogni posto autori di tutti i tipi anche in giappone ciao good vibes sta arrivando anche a essa fantastico ho letto qualche autore io adesso vabbè io ho letto il famosissimo innanzitutto ho letto di koshun takami il mitico battle royale battle royale da cui poi è stato tratto il film che è un libro incredibile veramente incredibile per chi ha visto il film oltretutto che pure il film assolutamente è obbligatorio da vedere perché uno dei film giapponesi più esaltanti e più giapponesi che ci siano la storia è geniale tratto appunto da questo libro omonimo battle royale di cui c'è anche il manga è una storia famosissima giapponese che c'è in varie versioni tutte molto belle il libro è stupendo perché è dettagliato in un modo che non è per niente noioso ma assolutamente esaltante ed è assolutamente da leggere per esempio questo libro che non è il classico libro giapponese un po filosofico ma è giapponese a quell'altro lato giapponese molto famoso totalmente horror e folle e completamente folle non vi spoiler niente perché è assolutamente da vedere è un capolavoro battle royale da leggere e da vedere assolutamente da leggere il libro meraviglioso e da vedere il film altrettanto meraviglioso in cui oltretutto c'è come attore non come regista ma come attore c'è takashi takashi mike famosissimo regista anche lui giapponese film assolutamente da vedere e oltretutto c'è la ragazza che fa la ragazza folle giapponese di kill bill anche lei c'è non mi viene in mente il nome adesso ma fantastica lei veramente fantastica pure pure in questo film ovviamente kill bill non c'è neanche bisogno che lo dica è un film obbligatorio obbligatorio parleremo parleremo un altro giorno di tarantino del suo genio e di tutti i suoi lavori visto che qua stiamo parlando anche di cose un po più magari ricercate meno mainstream che già tutti conoscono anche se tarantino è fortunatamente una di quelle cose che tutti conoscono perché è veramente un genio allora ok siete qua mi state sentendo due su youtube mi sa quindi ero curioso di sapere se siete intrigati dal conoscere anche murakami di sicuro con un racconto di murakami non riuscirete a capire perfettamente tutto e non magari può non può non piacervi e quindi vi non vi non vi viene voglia di comprare altro oppure può piacervi e succede il contrario però murakami è uno che al di là di questo racconto che leggeremo oggi nel caso non rimarrete comunque convinti non siamo qua a convincere ma siamo qua a leggere a condividere e a commentare insieme quello di sicuro ma murakami è di sicuro uno che ha scritto dei libri molto importanti in particolare il famosissimo 1 q 84 scritto come l'anno 1984 al posto del 9 c'è la q che è ovviamente un titolo che cita il famosissimo 1984 di orwell ed è un libro che è stato diviso in tre volumi enorme meraviglioso con varie storie che si intrecciano di questi tre protagonisti affascinanti e incredibili uno si riva il killer e altri due è veramente veramente da leggere 1 q 84 se non l'avete fatto perché in quel libro di sicuro si scopre tutta la la bravura e lo stile di murakami e poi appunto lì si può capire meglio se poi a uno piace o non piace ciao ire ciao io ascolto con mia madre fantastiche ciao vale eccole dai oggi non so se valeria ha mai letto murakami so che per esempio mio padre è un grande fan di murakami negli ultimi anni l'ha scoperto e ha letto praticamente tutto a lui piace tantissimo quindi è uno scrittore anche lui che divide delle acque è di sicuro uno dei scrittori se non lo scrittore più famoso giapponese al mondo attuale vivente con una grandissima bibliografia bibliografia come si dice bibliografia un sacco di libri all'attivo ha scritto anche una biografia tra virgolette biografia molto bella che si chiama il mestiere dello scrittore il mestiere dello scrittore è un altro libro molto interessante per chi è interessato anche alle storie reali e a leggere storie di vita di di persone che le scrivono in prima in prima persona quello libro molto interessante vabbè per me che che scrivo in particolare particolarmente interessante perché parla del punto della suo lato da di autore come come è diventato autore cosa lo ha ispirato cosa lo ha portato quali quali esperienze della vita lo hanno condotto anche inconsapevolmente a quello che è diventato bellissimo libro il mestiere dello scrittore quindi obbligatorio 1000 q 84 1 q 84 di murakami oggi leggiamo un racconto non l'hai mai letto ed è per questo che l'ho votato ottimo vi faccio i complimenti per le vostre rappresentazioni artistiche veramente bellissime per irene e alessandra eh sì tutti a creare meno male meno male meno male allora il racconto di oggi appunto sarà un racconto tratto da questa raccolta che si chiama uomini senza donne il racconto è l'omonimo da qui è stato tratto il titolo quindi è uomini senza donne è il racconto che chiude il libro sono tutti i racconti in cui il senza del titolo è molto ben presente in ogni racconto si questa mancanza in maniere diverse per ognuno dei protagonisti e sono tutti appunto protagonisti uomini che hanno una certo tipo di relazione di mancanza con qualche donna o comunque qualcosa di qualche storia particolare le emozioni sono forti sono anche molto a volte riflessivi quindi andiamo a scoprirlo insieme io non ho mai letto nessuno di questi racconti sono sette storie d'amore di mistero perché d'amore e mistero è fatta la vita e nessuno sa raccontarla come murakami haruki vi leggo la premessa qua dietro ciao dibi e se un demone dalle fattezze femminili facesse di tutto per venire a letto con noi e se un marito decidesse di diventare amico dell'amante della moglie e se gregor samsa si svegliasse una mattina trasformato in un essere umano che cosa strana l'amore degli uomini e quali e quali vie trova murakami per arrivare dritto al cuore dei lettori intrecciando a ogni pagina il fantastico che irrompe nel quotidiano con la nostalgia per ciò che non è stato l'inafferrabile verità sembra volerci dire è che le donne offrono un tempo speciale che annulla la realtà pur restandovi immerse per questo gli uomini senza di loro si sentono persi quindi interessante sarà di sicuro diverso da quello che abbiamo letto almeno nelle negli argomenti anche se murakami anche lui c'ha molti lati oscuri che butta dentro spesso ma è uno molto vario nel senso che che racconta di storie difficili da catalogare a volte hanno anche dei lati surreali le sue storie molto spesso hanno dei lati oscuri e sempre hanno dei lati romantici nostalgici sono molto molto relazionali il corriere della sera dice se la lettura fosse come la box murakami avrebbe il dono più prezioso la capacità di sferrare un colpo da ko quando l'avversario o meno se lo aspetta vabbè questi sono titoli da giornale murakami di chioto nato nel 1949 cresciuto a kobe è stato insegnato di molti premi tra cui il france kafka prize e il jerusalem prize presso in audi e in audi ha dedicato una lista enorme dei suoi romanzi dance 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 la ragazza dello sputnik underground un altro molto famoso tutti i figli di diod avanza da danzano norwegian norwegian blu norwegian blu si vabbè ragazzi sono un attimo mi sono perso norwegian wood tratto dal titolo della canzone dei beatles un altro romanzo famosissimo di murakami da questo tratto pure un film tokyo blues anche lui molto famoso l'uccello che girava le viti del mondo la fine del mondo il paese delle meraviglie kafka sulla spiaggia after dark lui è molto ispirato da kafka l'elefante scomparso e altri racconti l'arte ricordare nel signo della pecora i salici ciechi e la donna addormentata mille q 84 libro 1 e 2 e libro 3 ci sono diverse versioni adesso c'è stampata pubblicata da in audi c'era una versione con due volumi il primo dei due volumi comprende il libro 1 e il libro 2 e il secondo volume tutto il libro 3 che più lungo di 1 q 84 quindi è un autore veramente prolifico veramente tantissimo prolifico allora se mi vedete bene sia tutto a posto io andrei anche a leggerlo sto racconto che ne dite fatemi sapere se mi si sente se non c'è nessun problema cioè il polline in casa brian grandissimo ok ottimo ottimo allora ragazzi mettetevi comodi e buon ascolto questo è murakami uomini senza donne la raccolta il racconto è uomini senza donne appunto eccoci qua poco dopo luna venni svegliato dal suono del telefono un suono che in piena notte ha sempre qualcosa di aggressivo come se qualcuno cercasse di lacerare il mondo servendosi di un'arma brutale in quanto membro del genere umano dovevo farlo smettere quindi mi alzai andai in soggiorno e sollevai la cornetta un uomo dalla voce bassa mi diede una notizia una donna aveva lasciato per sempre questo mondo la voce era quella del marito perlomeno così si presentò a lui mi disse che la moglie il mercoledì della settimana precedente si era suicidata e che comunque stessero le cose riteneva doveroso farmelo sapere comunque stessero le cose da quello che potevo giudicare nel suo tono non c'era la minima traccia di emozione come se dettasse il testo di un telegramma nessuna pausa fra una parola e l'altra una notizia asettica un evento privo di circostanze accessorie punto come risposi a quell'annuncio probabilmente alcune parole le dissi ma non ricordo più quali ma non ricordo più silenzio un silenzio che faceva pensare a una profonda buca apertasi improvvisamente nel bel mezzo della strada e due persone ferme sui due lati a guardarci dentro poi l'uomo senza aggiungere nulla riagganciò cautamente come quando si posa per terra un fragile oggetto d'arte io rimasi in piedi dovero il ricevitore insulsamente in mano avevo addosso una maglietta bianca e dei boxer azzurri quello che non capivo era come facesse lui a sapere di me la donna gli aveva fatto il mio nome dicendogli che era un suo fidanzato a che scopo e come mai lui conosceva il mio numero di telefono visto che non ero sull'elenco ma soprattutto perché quell'uomo si era sentito in obbligo di chiamare me per annunciarmi che la moglie era morta non riuscivo a credere che lei nelle sue ultime volontà avesse lasciato scritto di farlo eravamo stati insieme molti anni addietro e dopo esserci lasciati non ci eravamo più rivisti nemmeno parlati al telefono comunque tutto questo non aveva importanza il problema era che lui non mi aveva dato uno straccio di spiegazione sentendo di dovere di informarmi del suicidio della moglie si era procurato in qualche modo il mio numero ma non aveva ritenuto necessario darmi notizie più dettagliate sembrava che il suo scopo fosse stato di piazzarmi in un punto intermedio tra la conoscenza e l'ignoranza ma perché voleva insegnarmi qualcosa cosa ad esempio non ci capivo niente andavo moltiplicando i punti interrogativi come un bambino che continui a stampare a caso sul quaderno uno dopo l'altro timbri di gomma di conseguenza ancora adesso non so perché lei si sia suicidata né quale modo abbia scelto di togliersi la vita anche volessi voluto indagare non ne avevo i mezzi ignoravo dove abitasse e tanto per cominciare non avevo mai saputo che si fosse sposata ne conoscevo ovviamente il suo nuovo cognome al telefono il marito non si era presentato a quando risaliva il matrimonio aveva dei figli eppure presi per buono tutto quello che il marito mi disse al telefono non dubitai mai che non mi avesse detto la verità dopo essersi separata da me lei aveva continuato a esistere in questo mondo si era probabilmente innamorata di un uomo di un uomo l'aveva sposato e poi il mercoledì della settimana precedente per qualche ragione con qualche mezzo si era tolta la vita comunque stessero le cose nella voce di lui c'era in effetti qualcosa di profondamente legato al mondo della donna morta nel silenzio della notte percepì quel legame vidi lo sfolgorio di un filo teso fino allo spasimo in questo senso a prescindere dal fatto che fosse intenzionale o meno telefonarmi a luna del mattino da parte di lui era stata una scelta giusta se mi avesse chiamato a luna di pomeriggio forse non avrebbe ottenuto lo stesso risultato alla fine posa il ricevitore e tornai a letto anche mia moglie si era svegliata chi era è morto qualcuno mi chiese no nessuno hanno sbagliato numero dissi con voce assonnata strascicando le parole naturalmente lei non ci credette perché perché nel mio tono si era insinuata l'ombra della suicida il turbamento che crea la morte di una persona ha una fortissima capacità infettiva si manifesta in un lieve tremore che si propaga attraverso i fili del telefono e diventa una vibrazione nella voce che fa oscillare il mondo mia moglie però non fece commenti distesi uno accanto all'altra nel distesi uno accanto all'altra nel buio seguimmo ognuno i propri pensieri tenendo l'orecchio al silenzio era la terza fra le donne con cui avevo avuto una relazione che sceglieva di darsi la morte a pensarci bene anzi senza bisogno di pensarci più di tanto era un tasso di mortalità altissimo stentavo a crederci perché non è che fossi stato con tante donne per quale motivo si erano tolte la vita una dopo l'altra ancora giovani cosa le aveva obbligate a farlo non lo capivo purché non fosse colpa mia mi dissi purché io non c'entrassi nulla purché non avessero pensato a me come a un testimone oculare o a qualcuno che registrasse l'evento lo speravo sinceramente inoltre come dire comunque la si rigiri lei la terza donna per comodità qui la chiamerò emu era il genere di persona non era il genere di persona che si suicida perché emu avrebbe sempre dovuto essere svegliata perché emu avrebbe sempre dovuto essere vegliata e protetta dai robusti marinai dal mondo intero non posso raccontare che tipo di donna fosse emu dove e quando ci siamo conosciuti quali cose abbiamo fatto insieme chiedo scusa ma se entrassi nei dettagli creerei dei problemi reali probabilmente metterei in imbarazzo diverse persone che sono ancora in vita di conseguenza tutto quello che posso scrivere da parte mia è che molto tempo fa per un certo periodo ho avuto con lei un legame assai intimo e che a un certo punto sono sorti dei motivi per cui ci siamo lasciati a essere sincero emu e io ci conoscevamo da quando avevo 14 anni in realtà non è così ma almeno qui supponiamo che lo sia ci siamo incontrati a 14 anni in un'aula della scuola media alla lezione di biologia si parlava di ammoniti o celacanti ammoniti o celacanti o qualcosa del genere emu era la mia vicina di banco io le avevo chiesto se poteva prestarmi una gomma da cancellare perché avevo dimenticato la mia e lei aveva spezzato in due la sua e me ne aveva dato metà sorridendomi e io in un attimo alla lettera me ne ero innamorato era la ragazza più bella che avessi mai visto perlomeno è quello che pensai quella volta è così che voglio considerare emu è così che ci incontrammo in un'aula della scuola media grazie alla mediazione indesistibile delle ammoniti o dei celacanti a questo pensiero tante cose trovano con facilità una spiegazione avevo 14 anni ero sano e in forma come un pesce appena nato e ogni volta che soffiava un vento caldo da ovest avevo un'erezione ma non era lei a farmelo venire duro perché emu era meglio del vento che soffiava da ovest anzi era talmente straordinaria da sbaragliare tutti i venti da qualsiasi direzione venissero non era certo il caso di avere una patetica erezione davanti a una giovane donna tanto perfetta mai una ragazza mi aveva ispirato tali sentimenti io sento che quello è stato il mio primo incontro con emu in realtà non è andata esattamente così ma pensarlo aiuta a dare un filo logico alla storia io avevo 14 anni e lei anche era quella letta giusta per incontrarci in una dimensione ideale peccato che in seguito chissà quando emu sia scomparsa non la vedevo più dove era finita appena avevo distolto per un attimo lo sguardo qualcosa me l'aveva portata via fino a poco prima era lì e a un certo punto mi sono accorto che non c'era più forse era stata indotta in modo un po subdolo a salire su una nave diretta a marsiglia o in costa d'avorio la mia delusione era più profonda di qualunque oceano avesse attraversato più profonda di un mare tanto vasto da celare piovere giganti e draghi marini cominciai a detestare la mia persona non credevo più a nulla ebbene sì a tal punto ero affascinato da emu a tal punto l'amavo a tal punto ne avevo bisogno perché mi ero distratto avevo guardato da un'altra parte paradossalmente da allora emu ha continuato a vivere ovunque la vedevo dovunque era presente in molti luoghi era compresa in molte dimensioni temporali in molte persone e io lo sapevo ho messo la metà della gomma da cancellare in una bustina di plastica e l'ho portata sempre con me come fosse un tesoro o un amuleto o una bussola se non l'avessi tenuta sempre in tasca prima o poi da qualche parte avrei trovato emu ne ero convinta era stata incantata dalle lusinghe dei marinai la sannolunga i marinai messa su una grande nave e portata in un paese lontano perché era una persona che voleva credere alle cose che poteva spezzare in due una gomma nuova senza pensarci due volte e darne la metà a qualcuno ho cercato di procurarmi a poco a poco dei frammenti di lei prendendoli da gente e da posti diversi ma naturalmente erano soltanto dei frammenti per quanti ne mettessi insieme tali restavano il nucleo di lei si era dileguato come un miraggio l'orizzonte non aveva limite né sulla terra né sul mare mi spostavo di continuo per inseguirlo siamo andati fino a bombai a città del capo a reik javik alle bahamas ho fatto il giro di tutte le città che avessero un porto ma quando arrivavo lei aveva già fatto perdere le sue tracce nel suo letto in disordine restava ancora un po del suo calore appoggiata alla spalliera di una sedia c'era ancora la sciarpa motivi stampati che portava intorno al collo sul tavolo un libro aperto alla pagina che stava leggendo nel bagno le sue calze di nylon appese ad asciugare ma lei non c'era più i marinai del mondo intero tempestivi avevano fiutato la mia presenza e l'avevano portata via di corsa per nasconderla da qualche parte naturalmente a quel punto io non ero più un adolescente ero diventato molto più forte e abbronzato avevo la barba più folta e sapevo distinguere una metafora da una similitudine ma una parte di me non era cambiata aveva ancora 14 anni e quella parte di me che avrebbe avuto per sempre 14 anni attendeva paziente che un dolce vento da ovest venisse a carezzare il mio sesso innocente perché lì nel posto da dove soffiava quel vento di sicuro c'era emu questo era emu per me non una donna che potesse sentirsi tranquilla in un posto solo ma neanche il genere di persona che mette fine alla propria vita a essere sincero ora non so più bene cosa volessi dire qui forse intendevo scrivere dell'essenza di qualcosa non di un fatto reale ma parlare di qualcosa di essenziale che non sia anche reale è come dare appuntamento a qualcuno sulla faccia in ombra della luna buio pesto nessun segnale visibile inoltre è un luogo troppo vasto quello che vorrei dire è che emu era una donna di cui avrei dovuto innamorarmi quando avevo 14 anni invece è successo molto più tardi e all'epoca anche lei purtroppo ne aveva tanti di più ci siamo incontrati nel periodo sbagliato è come se avessimo frainteso il giorno dell'appuntamento il luogo e l'ora erano giusti il giorno no eppure anche dentro di emu viveva ancora una quattordicenne in modo globale certamente non frammentario guardando con attenzione potevo vedere quella ragazzina muoversi dentro di lei quando facevamo l'amore emu nelle mie braccia poteva diventare molto vecchia o molto giovane poteva andare avanti e indietro all'interno del suo tempo personale lo faceva di continuo a me piaceva che lei fosse così in quei momenti la stringevo forte a me tanto da farle male forse ci metteva un po troppo ardore ma non ma non ne potevo fare a meno perché non volevo lasciarla andare via tuttavia come era naturale che accadesse a un certo punto l'ho persa di nuovo per forza tutti i marinai del mondo miravano a lei non era possibile che fossi il solo a proteggerla a chiunque succede di distogliere un attimo lo sguardo è necessario dormire bisogna andare in bagno lavarsi affettare le cipolle sbucciare i fagioli controllare la pressione nelle gomme della macchina ed è così che alla fine ci siamo separati cioè lei si è allontanata da me c'era di sicuro l'ombra dei marinai dietro un'ombra densa dotata di vita propria che si arrampicava sui muri del palazzo il bagno le cipolle la pressione delle gomme erano soltanto i frammenti delle metafore che quell'ombra spargeva come puntine quando lei se n'è andata sono caduto in un abisso di angoscia di cui nessuno conosce la profondità è qualcosa che nessuno può sapere visto che nemmeno io me lo ricordo tanto bene quanto ho sofferto quanto dolore ho sentito in petto sarebbe bello che a questo mondo esistesse uno strumento per misurare in modo semplice e preciso la sofferenza così si potrebbe poi quantificarla in cifre e segnare il numero da qualche parte e se quello strumento lo si potesse tenere sul palmo della mano sarebbe perfetto ci penso ogni volta che regola la pressione delle gomme allora mi fermo un secondo perché vedo dei commenti ditemi se se mi si sente male ora se ci sono problemi mi sono fermato proprio sulla fine di un paragrafo se no mi scollego e mi ricollego e finiamo la seconda parte scrivetemi ragazzi per favore fatemi sapere per te va bene ok salta da te ma db provate magari ad aprire su youtube ok 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 tutti a posto aissa c'ha qualche problema e anche denzel da quel che ho capito ok ok prova ad aprire su youtube allora aissa adesso riprendo ragazzi ho stoppato apposta su un paragrafo la fine di un paragrafo come se fosse un primo tempo visto che tutti mi avete sentito comunque bene a parte lollo e aissa aissa fammi sapere cosa stai facendo perché se no vado avanti e nel caso lo riascolti poi quando è finito non Vabbè ragazzi Vado avanti dai Sì sì vedo i commenti da youtube Vedo i commenti se li scrivete da youtube Ok buon ascolto questa è la seconda parte E poi lei è morta L'ho saputo da una telefonata nel cuore della notte Non so nulla di questa morte Il luogo, il mezzo, la causa, lo scopo Se non che Emu ha preso la decisione di togliersi la vita E la messa in pratica E che ha lasciato in silenzio Probabilmente Questo mondo reale Anche ricordando a tutti i marinai del mondo Servendosi di tutte le loro astute lusinghe Ormai non si può più tirare fuori O rapire Emu dal mondo delle tenebre Anche tu se tendi attentamente l'orecchio durante la notte Potrai udire molto lontano il canto funebre dei marinai Insieme a lei Ho la sensazione di aver perso per sempre il me stesso quattordicenne Come se in una squadra di baseball mancasse un giocatore La parte della mia vita costituita dal quattordicesimo anno È stata strappata con tutte le radici È stata rinchiusa in qualche robusto forziere Dalla serratura complicata E buttata in fondo al mare Forse la porta del forziere non verrà più aperta Per migliaia di anni Lo proteggeranno le ammoni Le ammoniti E i celacanti Anche quel fantastico vento da ovest Non soffia più I marinai del mondo intero Rimpiangono Emu dal profondo del cuore E anche tutti coloro che sono contro i marinai Quando sono venuto a sapere della morte di Emu Ho sentito che ero diventato il secondo uomo più solo e triste al mondo L'uomo più solo e triste al mondo naturalmente era suo marito Gli cedo volentieri il primato Non so che tipo di persona sia Non so quanti anni abbia Cosa faccia Cosa non faccia Non so assolutamente nulla di lui Di lui conosco soltanto una cosa La sua voce bassa Ma il fatto che abbia una voce bassa Concretamente non mi dice niente della persona Che sia un marinaio Oppure appartenga al gruppo contrario ai marinai In quest'ultimo caso è un mio fratello Altrimenti Beh Anche nel primo caso condivido i suoi sentimenti naturalmente Mi piacerebbe poter far qualcosa per lui Peccato che non possa avvicinarmi a quell'uomo che è stato suo marito Non conosco il suo nome Non so dove abiti Può anche darsi che abbia già perso tutto Il nome che aveva Il luogo dove viveva Perché è l'uomo più triste solo al mondo Nel bel mezzo di una passeggiata Mi sono seduto davanti alla statua di un unicorno Si trova in un giardino incluso nel mio percorso abituale E guardando l'acqua fredda della fontana Ho pensato a lui Ho cercato di immaginare cosa significa essere l'uomo più triste solo al mondo Cosa significhi essere il secondo uomo più triste solo al mondo Lo so già bene Il primo però no Tra il primo e il secondo c'è un fosso profondo Forse Profondo e anche terribilmente largo Tanto che vi si è accatastata una montagna di uccelli morti Uccelli che a un certo punto hanno perso le forze E non ce l'hanno fatta volare da un bordo all'altro Un giorno all'improvviso diventi uno dei tanti uomini Che non hanno una donna Quel giorno viene di colpo a farti visita Senza che tu ne abbia il minimo presentimento Senza il minimo preavviso Senza annunciarsi si bussando O schierendosi la gola Svolti l'angolo E ti accorgi che ormai sei arrivato lì Ma non puoi più tornare indietro Una volta girato l'angolo Quello diventa il tuo suolo Il tuo solo e unico mondo E quel mondo lo chiami I uomini senza donne Sì con un plurale di gelo infinito Quanto sia duro e doloroso Essere uno degli uomini senza donne Solo gli uomini che hanno perso una donna lo sanno Significa perdere quel fantastico vento da ovest Venire derubati per sempre Migliaia di anni sono forse vicini all'eternità Del proprio quattordicesimo anno Sentire lontano il canto triste e sofferente dei marinai Mescolarsi con le ammoniti e i celacanti in fondo al mare Telefonare a qualcuno poco dopo luna di notte Ricevere la telefonata di qualcuno poco dopo luna di notte Darsi appuntamento con uno sconosciuto In un punto intermediario tra la conoscenza e l'ignoranza Mentre controlli la pressione delle gomme Versare lacrime sulla strada arida Comunque sia Davanti alla statua dell'unicorno Prego perché quell'uomo un giorno si rimetta in piedi Prego perché finisca col dimenticare i numerosi fatti complementari Ma non ciò che conta davvero La sostanza la chiamiamo semplicemente noi Sarebbe bene che lui dimenticasse persino di aver chiamato Scusate Sarebbe bene che lui dimenticasse persino di aver dimenticato Lo spero con tutto il cuore È importante, no? Perché il secondo uomo più solo e triste del mondo Sta pregando, pieno di compassione Per l'uomo più solo e triste del mondo Che non ha mai nemmeno incontrato Ma perché lui ha chiamato proprio me? Non lo sto criticando Però ancora oggi continuo a pormi questa basilare domanda Perché era il corrente della mia esistenza? Perché si è preoccupato della mia persona? Forse la risposta è semplice Forse Emu gli aveva parlato di me Non c'è altra spiegazione Ma non riesco a immaginare cosa possa avergli detto Quale valore, quale significato avevo In quanto ex fidanzato Che lei dovesse rivelare al marito di sua volontà Era qualcosa di grave che ha una relazione con la morte di lei? La mia esistenza proietta una qualche ombra sulla sua scomparsa Forse ha detto al marito che io avevo un bel membro Ha letto, il pomeriggio A lei piaceva guardare il mio pene Lo teneva sul palmo della mano con precauzione Come se ammirasse un gioiello leggendario Incastonato in una corona indiana Ha una forma stupenda, diceva Naturalmente non so se sia vero o no È per questa ragione che il marito di Emu mi ha telefonato Per deferenza verso il mio pene All'una passata di notte Figuriamoci, non è concepibile Tanto più che il mio pene Da qualunque punto di vista lo si consideri Non è niente di speciale Tutto al più è normale Ora che ci penso non sono mai stato molto convinto Del senso estetico di Emu Aveva un senso dei valori originale Tutto suo O forse è una cosa che mi sto solo immaginando Gli ha detto che una volta in classe Alle medie Mi ha regalato metà della sua gomma da cancellare Gli ha raccontato quest'episodio di poca importanza Senza alcuna intenzione nascosta o malevola Ma il marito, va da sé Si è ingelosito Quella mezza gomma che aveva dato a me Ha suscitato in lui una gelosia molto più acuta Che se Emu fosse andata a letto con due autobus di marinai È naturale, no? Cosa volete che siano due autobus di robusti marinai? In ogni caso, Emu e io avevamo entrambi 14 anni E per quanto mi riguardava All'epoca bastava che soffiasse il vento da ovest Perché avessi un'erezione Ricevere da una ragazza così metà di una gomma Che aveva spezzato per me Era già una cosa straordinaria Come offrire a una tromba d'aria Una dozzina di vecchie capanne da sfasciare Da allora, ogni volta che passo davanti alla statua dell'unicorno Mi siedo lì per qualche minuto E vado col pensiero agli uomini senza donne Perché in quel posto? Perché l'unicorno? Chissà, magari anche lui fa parte degli uomini Che non hanno una donna Sì, perché finora non l'ho mai visto accoppiato Lui è un maschio senza possibilità di dubbio Sta sempre solo E protende con forza il suo corno appuntito verso il cielo Forse dovremmo farne un simbolo di solitudine Da portare sulle spalle In rappresentanza degli uomini senza donne Dovremmo percorrere in silenzio le strade del mondo Con un distintivo raffigurante un unicorno Attaccato al petto o al cappello Senza bisogno di musica, di bandiere Di volantini lanciati in aria a migliaia Forse So che uso troppo la parola forse Forse È facilissimo diventare uomini senza donne Basta che tu ami profondamente una donna E lei a un certo punto se ne vada Nella maggior parte dei casi, ma lo sapete già A rapirle sono quei campioni di astuze dei marinai Le seducono con le loro lusinghe E in 4 e 4 otto le portano a Marsiglia In costa d'avorio E noi non possiamo farci quasi niente Oppure le donne si tolgono la vita di loro volontà Senza che ci sia relazione alcuna con i marinai Anche riguardo a questa eventualità Siamo impotenti Lo sono pure i marinai In ogni caso È così che diventi uno dei tanti uomini senza una donna In un attimo E una volta che lo sei diventato La loro solitudine ti si attacca addosso per sempre È un colore che ti entra dentro Come una macchia di vino su un tappeto chiaro Farla sparire è un lavoro improbo Improbo? Non mi ricordo come si dice, perdonatemi Col tempo può darsi che sbiadisca Ma almeno finché respiri resterà lì Indelebile Ha le sue prerogative di macchia Che includono a volte il diritto alla parola E tu dovrai vivere insieme alle sue piccole variazioni Insieme ai suoi contorni che prendono significati mutevoli In quel mondo Anche la vibrazione dei suoni è diversa Anche il modo di schiarirsi la gola E la velocità a cui cresce la barba Le reazioni del commesso di Starbucks Persino gli assolo di Clifford Brown ti sembrano differenti E il modo in cui si aprono le porte dei vagoni della metropolitana Andando a piedi da Omotesandò A Oyama La distanza non ti parla più la stessa E se per caso in seguito incontri un'altra donna Anche se la trovi meravigliosa Anzi, tanto più se la trovi meravigliosa Da quel momento inizi a pensare che la perderai Basta un'ombra che ti faccia venire in mente i marinai Il suono della lingua che loro parlano Greco? Estone? Filippino? Per metterti in allarme I nomi esotici dei porti del mondo intero ti spaventano Perché sai bene cosa significa diventare uomini senza donne Sei un tappeto persiano dai colori delicati Su cui la solitudine è una macchia inderebile di Bordeaux La solitudine viene dalla Francia Il dolore dalla ferita del Medio Oriente Per gli uomini che hanno perso una donna Il mondo è un grande e doloroso miscuglio L'immagine stessa della faccia in ombra della luna La mia storia con Emu è durata all'incirca due anni Non molto quindi Ma sono stati due anni importanti Certo si potrebbe dire solo due anni Oppure due lunghi anni Dipende dai punti di vista naturalmente Inoltre parlare di una storia con lei Forse è fuori luogo In realtà ci vedevamo due o tre volte al mese Lei aveva le sue ragioni E io le mie E poi purtroppo all'epoca non avevamo 14 anni Per tutte queste ragioni tra noi non ha funzionato E pensare che cercavo di tenerla stretta Perché non se ne andasse L'ombra densa dei marinai spargeva le puntine aguzze della metafora La cosa che ancora adesso ricordo meglio di Emu È che amava il genere di musica che si sente negli ascensori Quella di Percy Fay, ad esempio O di Enrico Mantovani Raymond Lefevre Frank Chucksfield O anche di Francis Lay Paul Moria Billy Boone La 101 Strings Roba così A lei quell'innocua musica che io trovavo un po' fatalista Piaceva da morire Trascinanti orchestre di archi Sentimentali flauti in legno Trombe e sassofoni usati con la sordina Arpe che accarezzano il cuore Melodie affascinanti che non rischiano di spezzarsi Belle armonie gradevoli come dolci zuccherati Registrazioni in cui si sente un eco Quando in macchina ero solo ascoltavo rock o jazz Derek and the Dominos Otis Redding I Doors Ma non c'era verso di farli sentire a Emu Si portava sempre dietro una busta di carta con una dozzina di cassette di musica per ascensore Che infilava nello stereo una dopo l'altra Facevamo spesso lunghi giri senza una meta stabilita E nel frattempo Emu muoveva in silenzio le labbra Seguendo la melodia di 13 Giorni in Francia Di Francis Lay Le sue belle labbra sensuali dal rossetto chiaro Aveva migliaia di cassette di quel genere E una conoscenza straordinaria della musica innocua del mondo intero Avrebbe addirittura potuto aprire un museo di musica per ascensore Quando facevamo sesso era la stessa cosa Metteva sempre musica per ascensore Non so quante volte mentre facevo l'amore con lei ho ascoltato A Summer Place di Percy Faith Mi vergogno un po' a rivelare questo genere di cose Ma ancora oggi quando ascolto quella canzone mi eccito Il mio respiro si fa affannoso e il sangue mi sale al viso Credo di essere il solo uomo al mondo a eccitarsi ascoltando l'introduzione di A Summer Place di Percy Faith Potete cercare finché volete Anzi no, può darsi che ci sia anche suo marito Lasciamo aperta questa possibilità Ma è incluso ci sono forse solo due uomini al mondo Che si eccitano ascoltando l'introduzione di A Summer Place di Percy Faith Ecco, così va meglio Così va bene Spazio Sai, a me piace tanto questo genere di musica Mi ha detto un giorno Emu Può darsi che sia un problema di spazio Un problema di spazio? Sì, perché mentre l'ascolto ho l'impressione di trovarmi in un grande spazio vuoto Uno spazio davvero immenso Privo di divisioni Niente pareti, niente soffitto Quando sono lì non è necessario che pensi a qualcosa Non è necessario che dica qualcosa Che faccia qualcosa È sufficiente che chiuda gli occhi e mi abbandoni al meraviglioso suono degli archi Lì non esistono mal di testa, senso di freddo, mestruazioni, periodo d'ovulazione Tutto è infinitamente bello, confortevole, sicuro Non esistono tentennamenti Non posso desiderare nulla di più È come stare in paradiso? Sì, sono sicura che in paradiso si sente in sottofondo la musica di Percy Faith Senti, perché non mi accarezzi ancora la schiena? Sì, certo, ho detto Sei bravo ad accarezzare la schiena? Henry Manzini e io ci scambiamo un'occhiata furtiva Con un lieve sorriso agli angoli della bocca Ormai ho perso anche la musica per ascensore Lo penso guidando ogni volta che sono solo in macchina Vorrei che mentre aspetto fermo a un semaforo una ragazza che non conosco all'improvviso Aprisse la portiera Si sedesse accanto a me senza dire niente, senza nemmeno guardarmi E infilasse nello stereo della macchina, senza chiedere il permesso Quella stessa cassetta Me lo sogno addirittura Ma naturalmente certe cose non succedono Tanto per cominciare ormai non ho più uno stereo a cassette Nella mia automobile attuale ascolto la musica collegando l'iPod a un cavo USB E naturalmente lì dentro non ci sono la 101 Strings e Francis Lay Ci sono i Gorillaz e i Black Eyed Peas Questo significa perdere una donna E a volte perdere una donna significa perderle tutte Così diventiamo uomini senza donne E naturalmente perdiamo le loro schiene seducenti E anche Percy Faith, Francis Lay e la 101 Strings Le ammoniti e i celacanti Mentre ascoltavo Moon River Carezzavo la schiena di Emo Seguendo il ritmo di quella musica suave Waiting around the band My Huckleberry friend Eppure tutto questo è svanito È rimasto soltanto un pezzo di gomma da cancellare È lontano il canto sconsolato dei marinai È l'unicorno che tende verso il cielo il suo corno solitario Sul bordo della fontana Spero che Emo Spero che Emo Ora ascolti a Summer Place in Paradiso O in un posto del genere Che una musica immensa e senza barriere La tenga teneramente fra le braccia Che lì dove si trova non si senta nei Jefferson Airplane Non credo che Dio sia tanto crudele E mentre si fa cullare dai violini Che suonano impizzicato a Summer Place Sarebbe bello che ogni tanto pensassi a me Ma è chiedere troppo Perché Emo Perché Emo viva felice Tranquilla Insieme a quella musica per ascensore immortale Anche senza di me In quanto uno degli uomini senza donne Lo spero dal profondo del cuore E tutto quello che posso fare Per il momento Forse Fine A voi la parola Chiedo scusa se mi sono impappinato su qualche parola E se eventualmente ho sbagliato la pronuncia di qualcosa Purtroppo non conosco sempre tutte le parole esistenti nel vocabolario italiano O le traduzioni A volte il titolo in francese Non riuscivo a dirlo Quindi perdonatemi Ho dei limiti Spero siate riusciti ad ascoltarla bene Ad ascoltarla tutta Soprattutto Farvi un'idea Come vi avevo preannunciato Questo è un racconto Che Molto diverso dalle cose che leggiamo normalmente Sapevo fossero dei suoi racconti più Più intimi È tutta una Una riflessione Del protagonista Quindi a voi la parola Sono curioso di vedere i vostri commenti Perché anch'io sono Sto ancora pensando Non ho bene chiaro sempre subito Il quadro completo di ciò che penso Di sicuro è molto triste ed è molto romantico Come spesso sono i giapponesi Nelle loro creazioni Sempre all'estremo Per quel che Per la mia esperienza Sempre all'estremo Allora fatemi sapere Sono curioso Di scoprire cosa ne pensate Intanto bevo un goccio d'acqua Che sono disidratato Avete sentito ragazzi Ci sono stati altri problemi Latenza maledetta L'ho trovato molto profondo e introspettivo Un po' faticoso da sentire Ti assicuro un po' faticoso anche da leggere Infatti mi scuso se Non era facilissimo da Da leggere E' ovviamente molto profondo e introspettivo Come sono i giapponesi E a tratti come sono i giapponesi Un po' faticoso da seguire Perché hanno Spesso anche una drammaticità Una pesantezza Di sicuro Murakami Ha delle cose da dire Io su questo non ho dubbi Perché E' uno che ha una prosa molto ricca Sempre molto ricca E a tratti molto molto bella Scrive così tanto E così tanti libri E molti dei libri sono molto grossi Oltretutto Non molti Ma alcuni dei libri sono molto grossi Che a volte ovviamente Magari Si rimane perplessi su qualcosa Quindi Sono più o meno d'accordo Con il tuo commento Stefano Io l'ho trovato un testo molto Troppo dettagliato Ho fatto un po' fatica A tratti a seguire Per quanto entrava nei dettagli Ma di sicuro molto intimo E infatti noto che più o meno Siamo tutti sulla stessa linea d'onda Di sicuro Non per dare una giustificazione facile La Murakami Ma di sicuro E' un racconto Che è più facile leggere da soli E' molto intimista E' molto intimista Quindi anche proprio Dal lettore Leggerlo da solo E' più facile Ci si può perdere meglio Ho fatto un po' di fatica Anche io a leggerlo Quindi spero Innanzitutto Mi scuso Per quei tratti un po' Intricati Scritto molto bene D.B. Sì Scritto bene di sicuro Lui è uno che scrive bene Su questo ormai Non ci sono più dubbi C'è secondo me Adesso non vorrei dire una cavolata Perché gli altri racconti Trattano anche di altri uomini Quindi non saprei Ma io Penso che ci sia molta Molta esperienza personale Anche all'interno di questo racconto Cioè di sicuro È una riflessione Di un uomo Come tutti noi Che ha perso una donna Nella vita Che lo Che era molto importante Per lui E su questo Devo dire che a tratti Lo trovo molto azzeccato Cioè comunque i sentimenti Sono molto reali E le metafore Quando le Quando le Quando le cogli Sono molto azzeccate Molto realistiche Ok Non so se Denzel Poi si è scollegato Perché non riusciva più A sentirlo Irene Alessandra Che ne pensate Aissa forse si è scollegata Perché aveva problemi Non so Fatemi sapere Qualche persona La vedo Bisognerebbe di sicuro Leggere altro Di Murakami Perché Ripeto Ve l'avevo detto Solo questo racconto Non è Non è Adatto A spiegare Interamente La sua Sua visione Perché Ha scritto di tutto Ha scritto un sacco di romanzi E un sacco di Anche trame concrete Ovviamente Questo è un racconto Molto introspettivo Trovo sempre una grande sensibilità Ma una sensibilità chiusa dentro di sé Sento negli orientali Più un bisogno di cercare Il filo lento Del proprio pensiero Che la necessità di comunicare Io sono d'accordo Sul fatto che Soprattutto nei libri Che sono parlati Scritti Si notano ovviamente Delle grosse differenze culturali Tra l'Occidente E l'Oriente Infatti è anche per questo Che è interessante Poi andare a scoprire Quei libri giusti Le differenze Anche Ci sono Volte in cui Queste differenze Sono Completamente Strabilianti E sorprendenti Nelle storie A volte In cui sono Incomprensibili Per noi Magari ci appesantiscono Non ci Spesso Gli orientali E questa fa parte Anche Delle loro religioni Della loro cultura Sono molto riflessivi Sono molto più Calmi Nell'affrontare Le situazioni Calmi per modo di dire Ovviamente ci sono Un sacco di Contraddizioni Però Sulle emozioni Sono molto d'accordo Su questa cosa A me è piaciuto molto Ire Vedi un parere diverso Concordo con te Sul fatto che Forse va letto individualmente Sì E di sicuro Spero che non vi fermiate A questo Perché è uno scrittore Che è importante 1Q84 È un libro molto interessante È molto misterioso Una vera opera epica Drammatico Thriller Ironico Un po' di tutto È proprio un Grosso lavoro Di letteratura Se siete interessati Potrebbe essere Un libro importante Comunque è molto Delicato E rispettoso Degli altri Sì Ecco Di sicuro c'è Mi piace comunque Questa Questa Esempio Di situazione Che ha presentato Molto Particolare Anche inquietante Non inquietante Anche Spaventosa Da ricevere Una telefonata del genere E incomprensibile A tratti Infatti lui si fa Molte domande Non capisce Quale sia stato il motivo Ecco Tutte le domande Che lui si fa Io quello Da uomo L'ho trovato Molto azzeccato Sono domande Che è molto vero Se le possono fare Benissimo Gli uomini Dalla Dalla cosa Più banale E volgare Della dimensione Del pisello La differenza Tra quelle cose Alla Invece Alla roba Più Più romantica E Fanciullesca Quell'amore Ma Primordiale Da bambini Del gesto Di una gomma Spezzata in due Trovo Tutti Quei punti Molto azzeccati Sono contento Che abbia Comunque Anche questo Fatto Ha diviso L'opinione Abbia fatto Venire fuori Di riflessioni Diverse Da parte Di voi È molto Intimo È molto Romantico È molto Triste Romantico Allo stesso Tempo Penso Sia molto Molto Personale Come racconto Di sicuro È un autore Autentico Penso Penso che siete D'accordo Su questo Punto Ha fatto Diverse raccolte Di racconti Oltretutto Anche lui Quindi Questo È Ha questo Filologico Ben preciso Di questi Uomini Senza donne Che oltretutto Come abbiamo letto Spiega Benissimo Nell'ultimo Racconto La sua Intenzione All'interno Di questo libro C'è un altro Racconto Che pare Molto Interessante Su un uomo Che si sveglia Un giorno E rimane Terrorizzato Dallo scoprire Che è Diventato Un essere Umano Quindi Non si ricorda Nulla della sua vita Precedente Ma è terrorizzato Di essere diventato Un essere umano Il suo Carapace Non c'è più Ed è ovviamente Una citazione Magistrale Alla metamorfosi Di Kafka Però conviene leggere Prima la metamorfosi Di Kafka Quando prendo il libro E poi leggere Quell'altro Magari Che si incrociano E vanno all'opposto Allora ragazzi Io vi Vi direi Di scollegarci E ricollegarci Così Vinciamo Contro l'ora Di Instagram Senza essere bloccati Da loro E ci leggiamo Un'altra Delle nostre Tragedie Insieme Sul rock'n'roll Eccola Ire Eccoci qua Ottimo Sono contento Che ti sia piaciuto Ire Perché era imprevedibile Murakami Chi avrebbe colpito E chi avrebbe lasciato Perplesso Ed ero curioso Io se ti è piaciuto Questo racconto Ti consiglierei Di scoprirlo Un po' di più Murakami Perché se sei rimasta colpito Uno dei racconti Più difficili Da cui Approciare Io ti consiglierei Vivamente Di comprarti Uno Q84 E Parti col botto E lì Capirei davvero Se Ti piace O non ti piace Murakami Quindi Maurizio Benvenuto Allora Oggi vi avevo detto Che Ieri vi avevo detto Che vi avrei parlato Di Kate Moon Ditemi se avete Delle preferenze O delle curiosità Su altri personaggi Diversi Perché questo libro Contiene veramente Tutte le morti Più misteriose E tragiche Del rock and roll Quindi Ci leggiamo oggi Un'altra di queste morti Grande Maurizio Ovviamente Andate su youtube Iscrivetevi Al canale Vinny Brando Irene non ho ancora visto La tua iscrizione Così Potete seguire Tutti i video passati E quelli che metteranno In futuro Se ne perdete Le dirette Ci sono tutti I consigli Di film Serie televisive Musica E ogni giorno Ovviamente Il racconto Quotidiano Eccola lì La vale Beh Quindi Non ti ha Ti ha lasciato Un attimo Perplessa Confusa Murakami E di sicuro È così Come hai detto Nel senso Che è uno Che a tratti Può risultare Pesante Per alcuni E poi magari Il capitolo dopo Risultare totalmente Strabiliante È uno Che può essere Curioso Scoprire Se ti fa piacere Magari Iniziare con Un libro Come Norvegia Tu potresti provare A leggere Norwegian Blood Sì vabbè Ma perché io sto Continuando a Impappinarmi Su sto nome Amo pure i Beatles Oltretutto Alla follia Cioè Norwegian Norwegian Wood Legno Norvegese Niente Non ce la fa Cioè è blues Norvegese Per me Cioè per me È il blues Norvegese Norwegian blues Allora Norwegian Wood Legno Norvegese Stesso titolo Della canzone Dei Beatles Tu Valeria Potresti cominciare Con quello Se Ti incuriosisce Leggere Murakami Che so Essere molto Bello Una storia D'amore Poi me lo ricordi Irei Il canale Maurizio Guarda Vinny Brando Lo trovi esattamente Scrivendo il mio nome Come vedi qua Su Su Instagram Su Youtube Ha lo stesso logo Con questa Questa testa allungata Con il cervello Che piange dentro E ci sono Tu se scrivi Poi schiacci Subscribe Ti scrivi Ci sono tutti i video Delle dirette passate Anzi Innanzitutto Grazie di essere qua Perché è un piacere Vedere sempre persone nuove E quindi Ci sono tutti questi video Con i vari racconti letti Alcuni racconti anche miei Se ti fa piacere Mi aiuteresti Nel darmi nuovi commenti A parere sulle mie Scritture E poi ci sono Tutti i racconti Che abbiamo letto Di questi autori fortissimi Uno diverso ogni giorno E poi all'interno Di ogni video Vedrai anche Quello di cui abbiamo parlato In condivisione Durante live Dando consigli Su film Serie televisive E a volte anche musica Quindi mi raccomando Andatevi ad iscrivervi al mio canale Vinnie Brando Eccola di B Allora vi dicevo Moon 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 il folle Perché era veramente un folle Kit Moon Dalla maggior parte Degli esperti del rock Di tutti gli intenditori È considerato realmente L'emblema Per eccellenza Della rock star Più di qualsiasi altro Jimi Hendrix Jim Morrison Perché Moon Era proprio La follia La follia Totale Le stanze Non per niente Le stanze d'albergo La devastazione Delle stanze d'albergo Ha preso anche piede E diventata famosa In gran parte Per merito degli Who E dentro gli Who Per gran parte Per merito di Kit Moon Che ha fatto Decine e decine Di migliaia di dollari Di danni Anche solo in una notte Per esempio In un hotel Penso fosse l'Holiday Inn Poi sono stati banditi a vita Da Metteva esplosivo Dentro le batterie Per farle esplodere Senza dirle I componenti della band Era Era un matto Quindi adesso vi leggo Infatti quelli mi interessavano Grande Maurizio Grandissimo Non vedo l'ora di sapere I tuoi pareri Veramente non vedo l'ora Quindi andiamo a leggere Il capitolo su Kit Moon Tratto Come sempre dal nostro libro Tragedie e misteri Del rock and roll Ah Oltretutto questi Ci sono anche Nei video passati Le storie che abbiamo già letto Di altri artisti Maledetti Andiamo a leggere Kit Moon Aspettate che Trovo la pagina E Liu Hu Che sono veramente Una delle band Più importanti Degli anni 60 E poi 70 E poi anche Sono andati avanti Negli anni 80 Cioè in realtà Vanno avanti ancora adesso I restanti Pete Townshend Roger Daltrey Miti Del rock and roll Inglesi Allora Moon 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 Kit Moon 92 Kit Moon Allora Eccolo qua Moon The moon Questa faccia Da ragazzetto Matto Ovviamente Anche lui Amato da tutti Quelli che l'ha conosciuto Era amico di tutti Era l'anima Del party L'anima della festa Perché? Perché all'indento di sé Aveva delle Maledizioni Una sofferenza estrema Causata probabilmente Anche da una forma Di non si sa Quale tipo di Chiamiamola Disforia mentale Non la chiamo malattia Perché non si sa Cosa avesse Ma lui era Un bambino Mai cresciuto Un bambino Cresciuto E di mente Mai cresciuto Aveva di sicuro Bisogno di Persone Di personalità Positive Di fianco a lui Che lo aiutassero A uscire Da tutto Il circolo Vizioso Di droghe Alcol E medicinali Che poi Ha cominciato A prendere E purtroppo Negli anni 70 In una band Globale Famoso a livello Globale Come di Who Sempre in tour Non era di sicuro La situazione Adatta per lui E di sicuro Lui è morto Perché non aveva Aiuto Di fianco Purtroppo Adesso scoprirete Perché Perché era Veramente così Problematico Però era un mito Kit Moon Questo Kit Moon Questo è l'articolo Sulla morte Madman's Moon Last Night Out Il folle 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 Moon L'ultima notte fuori Ecco gli Who Con la mente In alto Che guarda Verso il cielo Pit Townshend La mente artistica Che ha scritto tutto Praticamente Gli Who Mitico D'arrild Di D'arrild Di Pantera Perché quelle Sono veramente Due tra le morti Più Più incredibili Del rock Allora Se mi sentite Io inizierei a leggere Così vi fate un'idea E scoprite anche la sua storia Di sicuro Li conoscete Li amiamo tutti Hanno fatto di tutto Dalle opere Rock Più Più epiche Orchestrali Alle hit Da stadio Più famose del mondo Sempre rock Quindi Buon ascolto Questo è Kit Moon Kit Luna Nasce il 23 agosto 1946 Muore il 7 settembre 1978 Vado Si dice che Tutti i batteristi Questi rock Sono pazzi Enchanté Ma nessuno è stato pazzo Come Kit Moon Sono io il migliore interprete Al mondo Dello stile di Kit Moon Diceva di se stesso Un istrione Un folle Un talento autodistruttivo Un simbolo Dello stile trasgressivo Del rock and roll E un batterista Sempre in preda Al delirio Della musica Che suonava Andatevelo a vedere Capite perché Era così delirante Kit Moon Era l'anima Degli Who Così come Pete Townshend Era il cervello Roger Daltre Il cuore E John and Whistle Il ritmo Sono andato alla deriva Come un naufrago Senza sapere dove dirigermi Senza avere nessuno scopo Dice nel 1977 È buffo So che devo darmi ancora Un po' di disciplina Un anno dopo Kit Moon muore A soli 32 anni Lasciandosi dietro Una sequenza leggendaria Di aneddoti rock and roll Si potrebbe scrivere Un'enciclopedia Di aneddoti rock and roll Solo su Kit Moon E probabilmente ci sono diversi libri A proposito La sua carriera Nella musica Inizia nella banda Dell'associazione giovanile Del Sea Cadets A Londra Kit suona la tromba Ma passa alla batteria Dopo aver visto il film Drown Crazy Storia del batterista jazz Gene Krupa Mito È osservando virtuosi Come Gene Krupa Joe Jones È Buddy Rich Che Kit Moon Sviluppa il suo stile incendiario È la teatralità Che lo renderà famoso Nel 1961 Compra la sua prima batteria E comincia a frequentare Il music club Dell'Allfield Hotel Dove incontra Quello che sarà Il suo primo e unico maestro Carlo Little Batterista dei Savages Per qualche settimana Kit prende lezioni da lui Nel 62 Entra nella sua prima band The Escorts E poi suona per un anno Con i Beachcombers Un gruppo che fa soprattutto Musica surf E pezzi di Cliff Richard I suoi compagni Lo ricordano come Un incontro tra genio E pazzia Kit Moon sviluppa Una passione per la musica surf Colleziona dischi Di importazione di Dick Dale Ma ha un modo di suonare Talmente sfrenato Da superare i confini del genere È troppo bravo Per i Beachcombers Che nel frattempo Sono riusciti a registrare Un disco per l'etichetta Columbia Un pezzo strumentale Intitolato Mad Goose Un pezzo strumentale Intitolato Mad Goose Nel 1963 Mentre fa i lavori Più disparati Dall'apprendista elettricista Al venditore di stucchi Per la British Gibson Kit Moon scopre Che gli Who Sono rimasti senza batterista Gli Who erano Già All'attivo Doug Sandow Che suonava con loro Da quando si chiamavano Dead Eaters È stato mandato via Kit aveva già sentito Parlare dei loro spettacoli Dal vivo E così si presenta Al pub Dell'Oldfield Hotel Di Greenford Completamente vestito Di arancione Gli Who stanno provando Con un session man Kit dice Io sono più bravo Di lui Si siede alla batteria E suona Roadrunner Di Bo Diddley Con tanta forza Da spaccare il pedale Del basso E due pelli Dopo un po' Me ne stavo seduto Seduto al bar E Roger è venuto da me E mi ha detto Cosa fai lunedì E io Niente Di giorno vendo stucchi Lui rispose Dovrei lasciare quel lavoro Abbiamo un concerto Nessuno mi ha chiesto Di fare parte del gruppo Mi avevano solo chiesto Cosa facevo lunedì A solo 17 anni Da allora Kit Moon suona In otto album Degli Who Da My Generation Del 65 A Who Are You Del 1978 E scrive La storia del rock Ma soprattutto Scrive un vero e proprio Manuale di follie Da rock star La sua specialità È far esplodere I gabinetti Degli alberghi Ma anche Delle case degli amici Usando petardi Bombe carta E persino dinamite Una vera passione Che lo fa bandire A vita Da molte catene Di alberghi Negli Stati Uniti Tra cui Holiday Inn Sheraton E Hilton Il suo assistente personale Dougal Butler Racconta Nella biografia Full Moon Avrebbe fatto Qualsiasi cosa Sapendo che c'erano Persone intorno Che non volevano Che lo facesse Il giorno del suo Ventunesimo compleanno Moon organizza Una festa All'Holiday Inn Di Flint Nel Michigan E dopo aver fatto Esplodere il gabinetto Della sua stanza Si getta con la macchina In piscina Rompendosi un dente Il 4 gennaio Del 1970 Dopo aver scatenato Una rissa Red Lion Pub Di Hatfield Sale sulla sua Bentley Completamente ubriaco E investe E uccide Il suo autista Neil Boland Che era anche uno Di suoi migliori amici Il 20 novembre Del 1973 Durante il tour Di Quadrofinia Opera rock Epica In un concerto A Daily City Nei pressi di San Francisco Ingerisce una quantità Imprecisata Di tranquillanti E brandy E sviene Mentre suona One Get Full Again Un'iniezione di cortisone Lo rimette in piedi Ma durante Magic Buzz Collassa di nuovo E viene portato via Pete Townshend Chiede al pubblico C'è qualcuno Che sa suonare la batteria? Intendo dire Qualcuno bravo Molti dottori Che lo visitano Per aiutarlo A combattere l'alcolismo Dichierano che Moon È irrecuperabile Il suo amico Ringo Starr Spero che Non dico chi è Ringo Starr Lo avverte Che se continua così Non vivrà a lungo Pete risponde Sì, lo so A partire dal 76 I suoi problemi Diventano ingestibili E il buffone rock'n'roll Che veniva allontanato Dallo studio Dai suoi compagni Quando registravano Le parti vocali Perché li faceva ridere troppo È diventato Un tragico clown La moglie Kim Carrigan Ha divorziato nel 75 Per maltrattamenti E vive con la figlia Amanda E con il tastierista Dei Faces Ian McClagan Gli Hussi sono presi Un periodo di pausa Dopo l'ultimo tour americano Che si è concluso Il 21 ottobre Al Maple Leaf Gardens Di Toronto Kit Moon vive a Malibu Con la sua nuova fidanzata La svedese Annette Walter Lux Ma lo stile di vita Della California Si rivela subito pericoloso Spende tutti i suoi soldi In alcol e droga Passa le giornate Insieme a Ringo Starr E a Harry Nilsson Si annoia E combina guai Annette cerca Di farlo ricoverare Più volte In vari centri di recupero Ma senza successo Ogni volta Kit ricomincia a bere Nel 1978 Le cose sembrano migliorare Gli Who Hanno comprato Uno studio cinematografico A Shepperton E stanno per iniziare Le riprese Di un film biografico Intitolato The Kids Are All Right E le registrazioni Di un nuovo album Who Are You Kit Moon Torna a Londra È contento di lasciare la California E di riprendere a lavorare Who Are You Sarà il suo ultimo album Nella foto di copertina Kit indossa uno dei suoi Travestimenti preferiti Quello da Fantino Ed è seduto su una sedia Su cui c'è scritta Una frase che suona Come un macabro presagio Not to be taken away Non portare via Kit e Annette Vivono prima Al Kensington Palace Hotel Poi si stabiliscono Nell'appartamento al numero 9 Di Carson Street Di proprietà di Harry Nilsson Lo stesso in cui Quattro anni prima È morta Mama Cass Dei Mamas & Papas Gli ultimi mesi Sono una corsa Verso il baratro Kit non riesce a suonare Senza il suo brandy E senza la cocaina Assume grandi quantità Di Valium E di altri medicinali Per combattere l'alcolismo Trascorre un mese Di vacanza alle Mauritius Ma torna scortato Dalla polizia Dopo aver dato Inescandescenze Sull'aereo Che lo riporta a casa Un medico Gli prescrive una cura A base di un medicinale Chiamato Heminevrin E gli lascia Una confezione Da cento pillole Da gestirsi Un errore gravissimo La sera del 6 ottobre 1978 Kit e Annette Partecipano A una festa Organizzata da Paul McCartney In occasione Dell'anniversario Della morte di Buddy Holly Al ristorante Peppermint Park Dopo la cena In cui siedono al tavolo Con Paul McCartney Vanno al Dominion Theater Di Leicester Square Per assistere alla proiezione Del film Buddy Holly Story Escono prima della fine E tornano a casa Kit vuole vedere un altro film L'abominevole Dr. Fibes Di Robert Fuest Sono ormai le 7 del mattino E ha fame Ordina ad Annette Di cucinargli una bistecca E delle uova Dopo questa assurda colazione Prende una manciata di pillole E si rimette a dormire Alle 4 del pomeriggio Annette prova a svegliarlo Ma Kit non respira più Disperata chiama Il suo medico personale Jeffrey Diamond Che non può fare altro Che constatare il decesso Kit ha ingerito in totale 32 pillole di Heminevrin Il batterista più rumoroso Ed esagerato Della storia del rock Muore nel sonno In silenzio Se avesse potuto scegliere Avrebbe sicuramente Architettato una morte Più spettacolare Forse avrebbe voluto Saltare in aria Mentre faceva esplodere Il gabinetto Dell'appartamento Maledetto di Henry Nilsson E questa era la storia Tragica Tragicissima Di Kit Moon Battista degli Who A voi la parola Io vi consiglio di Se siete incuriositi Anche da queste storie Reali Sul rock Sulla musica Di andarvi a vedere I documentari su Kit Moon Che sono ancora più dettagliati Perché gli aneddoti Appunto sul rock Creati da Da Kit Moon Sono epocali E sono veramente tanti Che ne pensate? C'è che ne pensate? Immagino Conosceste già Comunque gli Who Almeno di nome Andate a ascoltare Gli Who Se non ne avete mai ascoltati Perché Sono d'obbligo E andate a vedere Kit Moon dal vivo Come suonava Era Era tutto quello Che Un maestro di batteria Non ti insegna Quando ti cerca Di far imparare Uno strumento del genere Perché Era scordinato Scomposto Totalmente fuori Dalle righe Però ha creato Uno stile Batteristico Che solo lui Riesce a suonare Che solo lui Riesceva a fare E era una sorta Con lui la batteria Diventava uno strumento solista Lui non riusciva Durante le strofe A andare avanti Con i quattro quarti Doveva continuare A giocare sui tom Su tutti i tamburi Veramente un folle Veramente da andare a vedere Era Non esisteva una persona Così tanto entusiasmata Per il proprio strumento Entusiasta Del proprio strumento Non Non Incredibile Esprimeva proprio Sprizzava Energia Da tutti i puori Infatti Infatti Ci ha lasciato le penne Va bene ragazzi Aspetto i vostri commenti Ire Vai a scoprire di più Che questi sono solo Sono solo dei piccoli pezzi Per farvi incuriosire Ma poi queste storie Bisogna andare a vederle Nel Andate Un folle vero Cioè ci sono Ci sono vari documentari Se avete Sky C'è un piccolo 20 minuti Su Kitmoon Su Sky Arte Sulle ultime ore Un Programma Appuntate Chiamato Le ultime ore In questa rockstar Purtroppo Se non fai uso Di qualcosa Che esalta Il tuo io È difficile Proprio Far Far la storia Era veramente Un destino segnato Violento con le cose E le persone Diverso dalla personalità Di ieri Sì Però Quello che dico io È che bisogna Andarsi a informare di più Perché questi sono Molto risicati Questi paragrafi E ovviamente ti presentano I fatti salienti Senza andare Nello specifio Senza andare In profondità Kitmoon era Probabilmente Realmente Una Personalità malata Cioè di sicuro aveva Dei problemi mentali Forse era anche Forse era anche un po' Ritardato Andava curato E lui non era Nell'ambiente Adatto Per essere curato Una persona Che vive Da quando ha 17 anni In giro per il mondo Insieme a fare parte Di tutte le sere Con quegli stessi Beatles Che erano negli anni Oltretutto anche loro Peggiori Uno che passa Tutti i giorni Con Ringo Star A bere A drogarsi Con tutti quei soldi E' stato devastante E' stato devastante Quando si è rotto un dente Entrando in piscina Con l'auto E quella è una Delle scene Più poi replicate In tutti i film Sul rock Kitmoon Le faceva esplodere I gabinetti Era un artista Ma anche altri Sono grandi Senza distruggere tutto Eh Sta di fatto che E' molto Molto superficiale Ogni tanto dire così Ma il rock and roll Per essere rock and roll E per diventare Quello che è diventato E per avere Anche per aver Rivoluzionato Così tanto il mondo Ha avuto bisogno Non nei nostri anni Ma nei vostri anni Quelli della vostra generazione Negli anni 60 e 70 Di Di fare qualcosa di nuovo Che rompeva il sistema Che rompeva ogni certezza Che rompeva Ricordatevi che in America Oltretutto Dove tutte queste band Anche se inglesi Andavano a sfondare Perché tutte le band inglesi Beatles Rolling Stones The Who Tutti hanno dovuto Raggiungere il successo Hanno raggiunto il successo Solo quando sono riusciti A conquistare l'America E l'America Era completamente Come lo è ancora adesso Figurati in quegli anni Ancora di più chiusa Repubblicana Cattolica E quindi sono stati Una boccata Di aria fresca Questi personaggi Sono serviti Come in ogni epoca Artistica A rompere Gli schemi Completamente Cosa che poi Si rifletteva Tantissimo Sulla musica Perché è qui Che stanno le cose Alcune tra Le più grandi band Le più grandi band Rock Inconsiderate rock Che abbiamo ancora adesso Gli stessi Beatles Loro in primis Prima di tutti Sono band Che hanno dovuto rompere Ogni schema Per diventare Quelli che sono diventati E rompendo gli schemi Sono riusciti A fare musica Incredibile Perché i Beatles Prima di Entrare nella fase Di droghe pesanti E di distruzione Di cose E robe Facevano musica Che era Per i miei gusti Secondo me Comunque bellissima Erano album stupendi Tutti I primi album di Beatles Ma i veri capolavori Sono arrivati poi dopo Non c'è Non c'è nulla da fare E sono arrivati Quando hanno cominciato A diventare Dei visionari Per i loro viaggi Per le loro esperienze Erano anni diversi Erano anni diversi Erano anni in cui Venivano uccisi Tutti I capostipiti Delle organizzazioni Di africani Erano anni in cui I stessi presidenti bianchi Venivano assassinati Uno dopo l'altro Allora È vero Ma non tutti sono uguali Infatti Non tutti sono uguali Come stiamo leggendo In queste storie Tutti questi grandi personaggi Che hanno rotto In qualche modo Gli schemi Gli hanno rotti Tutti in maniere diverse Facendo cose diverse E ognuno di loro È servito Purtroppo È tragico dirlo Ma Keith Moon Se non fosse stato così Probabilmente Gli stessi Who non avrebbero avuto Lo stesso successo Gli stessi Beatles Suoi amici Sono stati geni Ma ben diversi Nella vita Eh Eh Mica tanto Gli stessi Beatles Hanno avuto diversi problemi Con le donne Eh Gli stessi Beatles Hanno rovinato L'anima E il cuore di diverse donne E non solo Moralmente Ci sono varie versioni Eh Gli stessi Beatles Anzi Sono quelli che hanno assunto Più sostanze Di tutti Sono i primi Che hanno sperimentato Con tutto Eh Comunque Eh Sono 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 contento Di fare queste conversazioni Nulla toglie E il dato di fatto è certo Che gli Who comunque Sono famosi Per essere La rock band Che Che distruggeva Gli strumenti sul palco Sono stati Praticamente i primi A Se non il primo Letteralmente A rompere una chitarra sul palco Ma Pete Townshend Quando ha cominciato A rompere la chitarra Quando l'ha rotta la prima volta E le ha dato fuoco Sul palco Di istinto Eh Il problema è che poi Dal giorno dopo Il pubblico Lo voleva sempre Eh Quindi lo doveva fare E hanno E sono diventati anche Quella band lì Pete Moon Oltretutto Quando sono andato in televisione A fare un famosissimo A Carson Mi sembra Eh Un'esibizione dal vivo In televisione Delle prime in televisione Con Pete Moon Pete Moon Senza dire niente Agli altri componenti Ha riempito la cassa Della batteria Di esplosivo Eh Ha fatto esplodere Alla fine della canzone Senza nessun controllo Senza avere Controllato Sapere Essere esperto La cassa e la batteria Cosa che ha fatto Oltretutto Perdere in parte L'udito A Pete Moon Scendo il chitarrista Che era davanti alla batteria E tuttora Ha problemi D'udito Per colpa Di Di quell'evento Comunque Io non giustifico mai Queste cose Anzi Sono il primo A condannarle Ad essere triste Per il fatto Che ci hanno portato via Tanti grandi artisti Ma Essendo io uno Che conosce molto bene La storia del rock Che ha letto tante biografie Che ha non solo Ascoltato tutta la musica Di questi artisti Ma è andato anche a scoprirli Ma perché sono interessato io Perché mi ha sempre affascinato Ormai Ho una certa esperienza E c'è una C'è una cosa ricorrente In questi personaggi Che sono tutti personaggi In primis Maledetti per loro E sono tutti personaggi Molto sensibili E molto Tristi Molto Sofferenti Quindi Io non riesco più A giudicare le persone Sempre così Io quando guardo ormai Quando guardo Tutti i documentari Sul crimine Andiamo da un'altra parte Non riesco più A guardare gli assassini A dire Quando te li spiegano La storia Che c'è dietro Agli stessi criminali Non riesco mai A dire Che bastardi Mi viene sempre Da dire Poveraccio Poveracce le sue vittime Primis E poveraccio lui Cioè Che cazzo di sofferenza Che malessere Cioè Non 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 Deve essere facile Non deve essere bello Provare certe cose Non lo possiamo capire bene C'è un documentario Su di lui Ire Te lo scrivo dopo Se vuoi Perché non mi ricordo Di preciso qual Ce ne sono diversi Comunque Assolutamente sì Ripeto Su Sky Intanto c'è un piccolo Pezzo Dedicato a lui Già interessante Valeria Pink Floyd Queen Genesis Erano professionisti Geniali Senza eccessi Di violenza Gli eccessi C'erano di altro Però E Queen Sono stati un'altra Delle band Più tossiche Della storia del rock Per chi non lo sapesse A livello di sostanze Bisogna andare a vedere Le storie di questi personaggi Le varie biografie Perché ci sono Tanti problemi Nascosti anche Da personaggi di questo tipo Moon Era uno che non aveva Nessun 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 freno Ed era facile Negli anni In cui viveva lui Le cose che faceva Erano evidenti Faceva esplodere i gabinetti Buttava le macchine In piscina Faceva esplodere la batteria Dava calcio alla batteria Alla fine di ogni concerto E faceva parte Tutto il giorno Non è mai stato in sé Non ha mai avuto Una figura Che un genitore Che lo prendesse Gli dicesse Adesso vieni qua Ragazzi Ha iniziato Negli Wu A 17 anni E non è che ha sfondato Poi a 25 Ha sfondato a 17 anni Perché gli Wu Erano già Sulla cresta dell'onda E con lui Hanno fatto il botto Bisogna Medesimarsi Ogni tanto Provare a pensare Con L'avvento Di un conto bancario Da milioni Di dollari Tutto un giorno All'altro A 17 anni Con magari Problemi mentali Sul Baraccone Del circo Della musica Di quegli anni In tutto un tratto Cominci a frequentare Ringo Starr Paul McCartney E sei in giro Per il mondo Con gente Che l'unica cosa Che gli interessa È darti i soldi In mano Per far sì Che tu riesca A salire sul palco E suonare Perché loro In primis Ci guadagnino Da te Ma voi Vi rendete conto Di quante Di quest rockstar Sono morte Per colpa Di manager Agenti Produttori Di etichette Dirigenti di etichette Che a 20 anni Li portavano Nei camerini Ogni sera Chili di cocaina Per farli salire Sul palco E far sì Che riuscissero A essere in piedi Tutte le sere Fare tour Da 200 sere l'anno Provate a immaginare Essere 200 sere l'anno Su 365 giorni Non a casa vostra Sul divano Ma su un palco E è finito il palco Andare non A scoparsi le gruppi A fare le cose Ma andare Sì a scoparsi le gruppi In condizioni pessime In hotel A dormire Dalle 6 del mattino A 7 del mattino Fino al mezzogiorno Ripartire col pullman O con l'aereo Che ti portano Nella città dopo Tutto gestito Giovani Questi personaggi giovani Da queste personalità Veramente invece Malvagie Che erano i dirigenti Che sono tuttora Spesso Purtroppo Tante volte Il Tutto Tutto L'entertainment Come si dice L'entourage Che c'è dietro Una band È questa la cosa Che bisogna pensare Il fatto che L'artista in sé È spesso quello più vulnerabile Molto spesso Pochi artisti Sono riusciti A diventare I business I capi di se stesso Come mi viene in mente Bon Jovi Che ha creato L'impero Lui è il capo Di Bon Jovi Management Ed è il capo Della piramide Di tutto Cioè In quegli anni Soprattutto Ripeto Erano presi Adesso Non sono più Non funziona più così Ve lo dico per esperienza Perché l'ho fatta Anch'io La conosco questa vita In quegli anni I Led Zeppelin Li produceva Li vengono scoperti La casa discografica Gli dava un milione In mano Di contratto Un aereo Un Boeing 747 Che ho scritto Led Zeppelin E ciao A vent'anni Una diretta su Carcoban L'hai mai fatta? No La faremo prossimamente Magari la leggiamo domani Dai Domani facciamo Carcoban Maurizio Se ci sei Domani Leggo Carcoban Che tutti conoscono Ma chi non conosce La sua storia È preciso Ci sono anche lì Molti dettagli interessanti È una delle morti misteriose Essendo anche un caso Tra virgolette Chiuso Ma in realtà Aperto Infatti Dice Anch'io Bisogna sempre Scavare più a fondo Nelle loro vite Si scopre sempre Si scopre sempre Che sono in primis Loro delle vittime Non c'è un cazzo da fare I guns Penso siano vivi Perché hanno un buco Nel 93 Al 2018 Sono d'accordissimo Con te I Guns and Roses Sono vivi Solo perché Si sono sciolti Nel pieno Del loro successo Durante i tour Degli user illusion I Guns and Roses Sono andati con gli user illusion I due album epici Che hanno fatto Nell'inizio degli anni 90 Sono andati due anni e mezzo In tour Senza mai fermarsi Duff McKagan Il bassista Sveniva sul palco E i tecnici Lo prendevano Lo appoggiavano Contro gli amplificatori Finché non ricadeva Di nuovo per terra Lo rialzavano Lo riappoggiavano Contro gli amplificatori Avevano vent'anni Non più vent'anni In quegli anni Ma avevano vent'anni Quando hanno sfondato Vivendo in una casa insieme Gli hanno dato milioni di dollari Tutte le droghe del mondo Hanno creato Alcuni tra gli album Più importanti Della storia del rock Sono esplosi Si sono sfasciati Hanno fatto sì che Una delle band più importanti Venisse disintegrata Da loro stessi Senza nessuna gestione Intelligente Con un cantante Come Axl Rose Che era malato Anche lui Narcisista Pazzo Folle Che aveva bisogno Di cure mediche serie Un genio Per carità di Dio Che piaccia o non piaccia A me non mi fa impazzire Ma lo rispetto Con l'anima Perché sono artisti veri Quindi C'è Questo secondo me Il dramma di fondo Delle rock star vere E appunto di quegli anni E di tutto l'entourage Che avevano intorno E questa è la realtà Janice Joplin Tutti Tutti E chi non E chi non Ci è caduto È stato un caso È stato un caso Allora Magari Sì domani facciamo Carcobain Non lo sapevo Questo Vedi Ma comunque Non faccio fatica A crederci Mi fa piacere Dirvi delle cose Ogni tanto Che non conoscete Che non sapevate Molto molto bello Verissimo Stefano Anche perché fuori dal mondo Dal loro mondo artistico Musicale Morirebbero di fame Come molti artisti Meno noti E spesso vivono Le loro vite Sotto ricatto Di soldi E droga È molto semplice Erano Erano subito Bombardati da questa cosa E arrivavano Da un giorno all'altro A uno stato Mentale Cosciente A totalmente Incosciente Finché il corpo Non cedeva Prima di riuscire A Chi è Riuscito A sopravvivere Quel momento Poi si è disintossicato Tutti Tutti sopravvissuti È così Tutti sopravvissuti E tutti sopravvissuti Raccontano le storie Raccontano di quanto Sono stati Defraudati Dai soldi Con contratti Illegittimi Fraudolenti Tutti raccontano Di manager Che li portava La droga Li riempivano Stesso Paul McCartney Cioè Ma anche oggi Secondo me Pure Avici Ha fatto la stessa fine Figurati Sì Di sicuro Lui Tutto Vabbè Sì Poveraccio Lui era un altro Che probabilmente Che era depresso Totalmente depresso Comunque Allora Scusate che mi segni Un attimo Ciò di cui abbiamo parlato Al volo E mi sono già scordato Di Gans Di Axel Di Duff Illusion Alice in Chains Leggeremo anche Dillaine Staley Dell'Alice in Chains Della sua morte tragica Un altro Un altro poeta Romantico Del rock Morto Per i suoi demoni Comunque Non siamo qua A giustificare Non siamo qua Neanche a giudicare Ma siamo qua A discutere A parlarne E purtroppo Io non sto dicendo Che mi fa piacere Ma è un dato di fatto Il mondo dell'arte Nella maggior parte Dei casi È stato Influito Da sostanze È stato Influito Da esperienze Negative È stato Influito Da maledizioni Da sofferenze Da traumi Da tragedie E parlo E parlo di tutto Il mondo dell'arte Andate a vedere La storia Di tutti I più grandi Artisti Cioè È emblematico È emblematico Scoprirlo Ti fai due domande E io sinceramente Mi sono risposto Un sacco di volte Che Che i traumi La sofferenza E tragedie Non vi so spiegare Perché Ma portano Alla maggior parte Delle creazioni Più incredibili E commoventi E toccanti Che ci sono Al mondo Secondo me Io La musica che ascolto Che è Svariatissima Di tutti i generi È Quasi sempre Quasi sempre Musica Che Anche se è una melodia Piacevole È musica Con Con delle Punte di Sofferenza Profonde Al loro interno Domani A che ora ci sei Sempre cinque e mezza Sempre cinque e mezza Guarda anche gli artisti Cioè Tutti i pittori Che fine hanno fatto Ragazzi Ma i pittori Che fine hanno fatto E cosa ci hanno lasciato Ci hanno lasciato Quelle cose Per le loro esperienze Di merda Di vita Che hanno avuto Cioè È un dato di fatto E ripeto Non è una giustificazione È un dato di fatto Che deve far riflettere Bisogna combattere La droga Le dipendenze Tutte queste cose Ma per combattere Bisogna cercare Di aiutare Le persone Che Che cadono In queste cose Con la consapevolezza Che non sono Degli stupidi O dei superficiali O delle teste Di cazzo Ma sono dei malati Sono delle persone Che hanno dei problemi Sono delle persone Che hanno avuto Dei traumi Sono delle persone Che sono In primis Delle vittime E io so benissimo Che Valeria È d'accordissimo Con me Su questa cosa Perché lei È assolutamente Una persona Di questo tipo Che non ha mai Condannato Il Per fare Questo esempio Il tossicodipendente In quanto tossicodipendente Ha sempre cercato Di capirlo Io ho imparato La mia sensibilità Verso il prossimo La mia empatia Viene da mia madre Da Valeria Quindi Solo che Questo discorso Del rock and roll È un discorso Che è importante Capire Studiandolo Come ogni cosa È importante Andare a Leggere Le biografie Perché Ci sono dei punti In comune Che continuano A tornare E ti rendi conto Che c'è un filo logico C'è un filo comune Come ogni cosa Quegli anni O soprattutto Poi voi Della vostra generazione Li avete vissuti E avete visto Avete visto Ogni giorno Morire Uno dopo l'altro In maniere più assurde Questi 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 Grandi miti Che ripeto Sono grandi miti Per un motivo Ben preciso Irene sta dicendo Giustamente Da Caravaggio Che vabbè Cioè Caravaggio Chissà pure Che gli ultimi istanti Di vita Come li ha passati Chissà cosa ne hanno fatto Visto che È pure scomparso A Yves Klein Ecco Vedi Poi Irene Ci insegna più cose Di sicuro Di quelle che so io Sulla pittura Che è una pittrice È un'esperta Nel settore Ma Stessa Frida Ma Schiele Klimt È morto Adesso non mi ricordo Se si è suicidato Mi sembra di sì Ma è depresso Perché Perché Schiele Il suo allievo Aveva superato Il maestro La sua mente Klimt Che era un genio Secondo me Uno dei migliori Al mondo Lo stesso Lo stesso Iconico Van Gogh Che vabbè Lui Ci ha aiutato tutti Tagliandosi un orecchio A regalarci A dirci Sì Sono folle Io preferisco Che me le raccontino Una discussione così E mi fa molto piacere Maurizio È proprio quello Che siamo qua a fare Però se Appunto Se vai a vedere Gli altri Che abbiamo fatto Noi in passato Vedrai Ovviamente Sentirai anche Tutta la conversazione Che abbiamo fatto I miei pareri I pareri degli altri Quindi sentirai la discussione E mi piaceva questa roba Dei paragrafi Perché non sono lunghissimi Ci danno il quadro completo Di un evento E da lì Si può Si può poi Discutere così I più grandi I più potenti I più genali Hanno avuto vite difficili Traomi E infatti Secondo me I più grandi I più geniali Sono diventati artisti Geniali Che ci hanno lasciato Queste e queste cose Perché loro Soffrivano così tanto Che dovevano trovare un modo Per scaricare queste cose Per mettere da qualche parte Che fosse su un foglio di carta Che fosse in musica O È così L'artista Vero È una persona Che È una persona insicura Che Che ha bisogno Di trovare un modo Per Per buttare fuori Da qua Quello che lo sta facendo Stare così male Perché Dopo Questa cosa Quando uscirà Sarà diventata Un sollievo Per quella giornata Il giorno dopo Ricomincia la stessa La stessa dinamica Van Gogh Però non era uno Completamente folle No no Ho fatto l'esempio Iconico di Van Gogh Poi vabbè Lui è romantico Per carità di Dio Assolutamente Però era per fare Per fare l'esempio Più facile Banale E iconico Appunto Di un personaggio Come Van Gogh Mo stasera Mi vedo qualcosa Dopo il lavoro Grande Maurizio Dopo ti aggiungo Ovviamente Allora Quindi detto questo Valeria ha ragione In sostanza Alla fine A dire che Tanti dei più grandi Però io penso che Si riferisse alla violenza In particolare Di chi viene accennata Dalla moglie Che lo ha denunciato Quella storia È un po' ambigua Bisogna vedere Quali sono state le cose Perché ci sono varie versioni Anche su quella cosa È importante anche Non condannare Subito gli uomini Quando si parla Di questo tipo di cose Come quanto ancora È più importante Poi condannare Tutti Quella Quella mandria Tantissima Numerosissima Di uomini Schifosi Che le molestia Purtroppo in realtà Poi le fanno davvero O che siano maltrattamenti O robe varie Ecco di sicuro C'è un lato in comune Di tutti questi musicisti Che è tragico E che i primi Che lo sentono Sono loro stessi La maggior parte Delle rock star Di questi artisti Che hanno dovuto Viaggiare tutta la vita La maggior parte Sono state Sono state figure Genitoriali negative Verso i loro figli Il primo è John Lennon Perché? Che per forza di cose Erano in giro Per il mondo Uno In maniera concreta E due Erano ossessionati Dalle loro opere Questo è un lato Secondo me Un altro lato A cui non si pensa Molto È reale Che fa male Io stesso Sono uno Che ha sempre sognato Di fare il musicista Andando in giro Per il mondo Mi sono divertito L'ho fatto Sono girato il mondo Per un periodo Della mia vita Continuerò a farlo Per tutta la vita Il musicista Perché è una cosa Che non si molla mai Ma ci ho sempre pensato Nell'eventualità Di avere una vita Del genere È difficile Essere un genitore Presente Bravo E questa è una cosa Che nella loro testa Che non credete Che gli faccia piacere La maggior parte Di questi artisti Muore Triste anche Per il rapporto Con i figli Lo stesso Michael Hutchins Degli In Excess Di ieri Che abbiamo sentito È molto probabile Che si sia suicidato Nella complessità Delle cose In parte In grandissima parte Per il fatto Che non poteva Vedere la figlia Quindi Sono discorsi Importanti Ciao Matteo Abbiamo parlato molto Oggi Roba interessanti Abbiamo letto Un racconto di Murakami E abbiamo parlato Fino adesso Della morte Di Keith Moon Battrista degli Who Di cui abbiamo letto Un paragrafo E abbiamo conversato Fino adesso Quindi ragazzi Io direi Che Di salutarci Andate a iscrivervi Al mio canale Youtube Vinny Brando E ascoltate I video passati Ho fatto anche Dei montaggi Con le foto Dei vari artisti Che nomino E delle opere Che nomino Così avete subito Il riferimento Iscrivetevi Lasciatemi i commenti Mettete i like Cazzo Lollo Se è riuscito A collegare adesso Purtroppo Era stata Una conversazione Interessante Però La facciamo tutti i giorni Sulla morte delle rockstar Quindi più o meno A grandi linee Sono cose Di cui ci ritroviamo A parlare tutti i giorni Non ti sei perso nulla Vattelo a risentire dopo Vi auguro Buona serata Allora Valeria Un attimo Butto lì Un mio pensiero Ci sono tante vite tragiche Dolorose E ci sono tanti Che usano sostanze Quelli che hanno Una sensibilità artistica Hanno il privilegio Di trasformarle in arte È vero È vero È vero Ci sono tantissime persone Non so se stavi continuando A scrivere O se il tuo pensiero Era Finiva così Ed era appunto Un pensiero È una cosa Che fa pensare E mi viene Una Una tristezza Un vuoto grandissimo Dentro Pensare alle persone Che Come questi artisti Vivono le stesse Esperienze tossiche E non riescono Neanche ad avere Un Per in alcuni minuti Della giornata O ore Quella scappatoia È proprio vero È drammatico È drammatico Infatti è per questo Che bisogna Bisogna Dare ai bambini Tutta la possibilità Di sperimentare Fin da piccoli Qualsiasi cosa Parlo a livello Di 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 Cose Di Di Artistiche Di 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 Qualsiasi cosa Che possa Uno Creare L'elemento Di Di Sociale E due La propria personalità Scoprire I propri talenti Le proprie passioni È È importantissimo Per una scappata Io Ne parlo spesso Con mia madre Non Sono uno Che Che Tra virgolette bipolare che continua ad andare da momenti di totale euforia, momenti di totale depressione e mi sento da tantissimi anni un artista perché sono uno che la cui mente è sempre al lavoro per creare cose che poi siano valide o no, lo dicono gli altri ma io, è un dato di fatto la mia mente non si spegne un attimo e da tanti anni faccio fatica a dormire vado a letto tardi non perché mi diverto perché pensieri sono tanti la mia scappatoia, cosa che pochi hanno che io so di avere è che io quando vado a letto e chiudo gli occhi se mi concentro mi metto a pensare a un racconto che voglio scrivere o una storia che voglio inventare riesco a pensare a quello e mi perdo in quel mondo sono scappatoie, è molto vero quello che hai detto, siamo in due grande Maurizio siamo in tanti qua, di sicuro perché ognuno di noi qua e vi conosco tutti più o meno e Maurizio che non lo conosco però mi conferma dicendolo tutti qua tutte le persone che io conosco a partire da mia madre e mio fratello sono persone che hanno hanno un sacco di cose che gli servono per sopravvivere e anche per entusiasmarli per stupirli ogni giorno è farne testimonianza chissà quanti anonimi senza talento hanno vite difficili quindi non è che uno soffre non è che uno soffre quindi diventa artista anzi se è artista puoi lavorarle in positivo anziché morire beh ma nessuno ha detto quello io non ho mai detto che che se quando uno soffre diventa artista assolutamente ho semplicemente detto che il dato di fatto è che gli artisti quel mondo lì tutti quelli che ci hanno regalato le più grandi opere sono gente di un certo tipo e quello è un dato di fatto che possa piacere o no la cosa che si può fare se è facile è condannare avrei pregiudizi giudicarli e fermarsi lì la cosa meno facile è cercare di capire comprendere perché quelli lì esattamente come in un'artistica hanno gli stessi problemi ma siccome stiamo parlando del mondo dell'arte stiamo parlando di questi personaggi qua e siccome nel mondo del rock del metal e soprattutto del rock perché il metal è un'altra cosa è un altro stile di vita non è lo stile di vita tossico della rock star ma se nel mondo del rock c'è una realtà che si ripercuote ed è sempre la stessa soprattutto in un certo tipo di anni è una realtà che bisogna capire e ormai si è capita molto bene erano anni di un certo tipo in cui c'era bisogno di questa rivoluzione c'era bisogno di questa trasgressione e questa rivoluzione e questa trasgressione ci hanno regalato e mi dispiace ma questo divento 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 presuntuoso ma ci hanno regalato le più grandi musiche di tutti i tempi perché il rock and roll che non è è uno stile di note di un arrangiamento di note o un ritmico però che noi è uno stile di vita e quindi ci ha regalato musiche di tutti i tipi ci ha regalato cose che tuttora ci rendiamo conto essere le più belle che siano mai state fatte le più commoventi le più autentiche è un dato di fatto è questo il punto purtroppo però non sempre l'arte e il talento li salva da una triste fine certo va bene mi ha fatto molto piacere discutere di queste cose andremo avanti leggendo le storie degli altri domani leggiamo Carcobain quindi anche Valeria mi raccomando domani ci sentirà e sentirà un'altra delle storie più famose su uno dei personaggi il personaggio più iconico degli anni 90 del mondo del rock più specificamente del grunge ma il grunge è rock Carcobain è stato l'icona di una generazione come Jim Mordison negli anni 60-70 Carcobain lo è stato per la generazione degli anni 90 decade fondamentale gli anni 90 sono a mio parere una delle decadi migliori nel rock dopo gli anni 60-70 se non insieme cantante di Nirvana una morte incredibile un mistero incredibile quindi ci vediamo domani alle 5 e mezza e andate a vedere tra poco la storia che metto con la scelta dei due libri per domani li metto solo due che così andiamo a leggere quelli che sono un po' di tempo che non vengono scelti 5 e mezza domani con uno dei racconti che sceglierete dopo voi sulla storia e con la morte tragica e misteriosa di Kurt Cobain va bene ragazzi ringrazio tutti tantissimo siete fantastici e soprattutto di creare dibattito perché questa è la cosa che voglio anche voglio poter parlare e conversare con voi e non sarebbe piacevole parlare da solo ed è bello vedere tutte le opinioni diverse perché portano sempre a qualcosa di positivo per tutti noi a delle comprensioni maggiori a dei spunti di riflessioni nuove anche ognuno di noi grazie a te come sempre un bacio a tutti ragazzi buona serata e a domani grazie a tutti